Come amministrazione avete bloccato le assunzioni in Asia, si parla di una presunta parentopoli, lei come commenta questa vicenda? Una questione su cui c'è grande attenzione da parte dell'amministrazione, l'assessore Mancuso la sta seguendo con grande attenzione, credo che la scelta che ho condiviso da subito di bloccare questa procedura sia corretta perché noi dobbiamo garantire il massimo della trasparenza. Questo bisogna farlo nel comune, bisogna farlo nelle partecipate, è quello che ci chiedono i cittadini, quindi di fare in modo che tutte le procedure siano le più trasparenti possibili.